Mi sarei quantomeno particolare che l'allenatore ospite prima e dopo della partita riceva più applausi dell'allenatore della squadra di casa, che sensazioni hai avuto? Dio la verità, li cercavo ma non li ho notati, sono sincero, non me ne sono accorto, se ci sono stati non me ne sono accorto, sono sincero, ci sono stati, ma di questo probabilmente non debitavo perché l'affetto che mi hanno sempre dimostrato in passato è presente quando torno a Roma, perché ho sede a Roma, quindi fa piacere, insomma il loro affetto non c'era bisogno che me lo dimostrassero anche oggi, però ha fatto particolarmente piacere. C'è più rammarico per una vittoria sfumata o soddisfazione comunque per aver ottenuto un pareggio su un campo difficile? Ma diciamo che questo è quello rispecchiato un po' anche il nostro cammino durante tutto l'anno, dove c'è soddisfazione per prestazioni all'altezza o quasi all'altezza, a volte anche superiore a un avversario più o meno importante e dall'altro non aver raccolto magari il massimo bottino. In questo qualcosina dovremmo migliorare se il prossimo anno vogliamo o volessimo ambire a qualcosa a cui tutti ci siamo un po' abituati in qualche modo, a parlarne quantomeno. Però questa squadra con le grandi squadre sembra completamente diversa, noi l'abbiamo definita piccola con le piccole e grande con le grandi. Il cammino è così, abbiamo perso due partite con il Chievo, due partite con il Bologna, due partite con il Cagliari e naturalmente in quello dovremmo assolutamente migliorare in prospettiva futura. L'obiettivo dei 50 punti, anzi 51 a questo punto è ancora raggiungibile e bisogna battere l'Udinese? Sì, non sarà facile, non sarà facile per tanti motivi, così come non sarà facile per la classifica che si gioca all'Udinese. Mi auguro che la squadra trovi le motivazioni che ha dimostrato di possedere stasera e solo in quel modo potremmo fronteggiare una squadra forte come l'Udinese.